Ciao a tutti, come va? Quando si parla di musica è doveroso parlare di lui, del grande genio assoluto, Wolfgang Amadeus Mozart. Pensate, addirittura si parla dell'effetto Mozart, sapete cos'è? A quanto pare l'ascolto della sua musica produrrebbe un incremento cognitivo, aiutando così i bambini nella loro crescita, soprattutto quelli nati prematuramente. E quindi, care mamme e cari papà, siate voi i primi a dare l'esempio. Ascoltate buona musica! A questo punto provo anch'io con il mio flauto di canna per vedere quale effetto riesci a produrre. Oh my god! Un caro saluto a tutti da Carmelo Salemi, a presto, ciao!